Una giornata di festa nella quale già si intravede la fioca luce di Betlemme e la grazia di un bambino che salverà il mondo. Domenica 8 dicembre, solennità dell'immacolata concezione della Beata Vergine Maria, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per il tradizionale omaggio alla statua della Madre Celeste. Il Pontefice ha lasciato il Vaticano nel primo pomeriggio per attraversare le strade di Roma gremite di fedeli e già vestite con i colori natalizi. Il percorso è stato scandito da applausi e gesti di affetto, un abbraccio al quale Papa Francesco non si è sottratto. Dopo una breve sosta davanti alla Chiesa della Santissima Trinità per l'omaggio dell'Associazione Commercianti di Via Condotti, il Pontefice è giunto in Piazza di Spagna ai piedi di una variopinta scarinata di Trinità dei Monti. A Maria ha levato un'accorata preghiera perché ciascuno tenga fissi gli occhi sulla vera gioia, l'amore di Dio. Aiutaci a rimanere in accolto attento dalla voce del Signore. Il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti. L'afferenza del mailati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti. La solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano. Ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. Prima di risalire in auto Papa Francesco si è trattenuto a lungo con gli ammalati accompagnati dall'unità al sigiunti anche dalle zone alluvionate della Sardegna senza risparmiare sorrisi, abbracci, carezze, parole di vicinanza e di conforto. Prima di fare rientro in Vaticano il Pontificio ha voluto visitare poi la Basilica di Santa Maria Maggiore per una preghiera dinanzi all'immagine della Salus Popoli Romani. Anche la mattina Maria era stata protagonista tra le parole di Papa Francesco che all'Angelus ha rimarcato quanto sia bello avere una madre piena di grazia, una donna che ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale perché ci insegna come vivere nell'attesa del Signore che viene per tutti e per ciascuno. Maria veniva da un paesino alla periferia dell'Impero Romano e alla periferia di Israele e certo non sarà stato facile accettare il progetto che l'attendeva eppure la sua vita non si è mai allontanata dall'amore di Dio. Di qui l'invito a contemplare l'Immacolata riconoscendo anche il nostro destino più vero, essere trasformati dall'amore preparandoci ad accogliere il tenero abbraccio di Gesù che ci dà vita, speranza e pace. Il mistero di questa ragazza di Nazareth che nel cuore di Dio non ci è estraneo, non è lei là e noi qui, no no, siamo collegati. Infatti Dio possa il suo sguardo d'amore su ogni uomo e ogni donna, con nome e cognome, il suo sguardo d'amore è su ogni uno di noi.